False attestazioni sul patto di stabilità del Comune di Porto Empedocle. Questo il contenuto dell'avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di Lillo Firetto, inquisito dai magistrati agrigentini, assieme all'ex dirigente dei servizi finanziari del Comune Empedoclino, Salvatore Alesci, e degli ex revisori dei conti. Quella che riguarda l'ex sindaco di Porto Empedocle Lillo Firetto e primo cittadino di Agrigento, se non è una bomba, poco ci manca. Mentre si parla ancora della recente assoluzione proprio di Firetto da parte della Corte dei Conti, è arrivato adesso l'avviso di garanzia che sicuramente qualche turbamento lo crea, malgrado il diretto interessato, si dice certo, della correttezza del suo operato. C'è da dire comunque che a diffondere la notizia dell'avviso di garanzia è stato lo stesso Firetto, il quale verrà interrogato lunedì dai pubblici ministeri Simona Faga e Chiara Bisso, titolari dell'indagine coordinata dal Procuratore Luigi Patronaggio. Tra le contestazioni dei magistrati nei confronti degli indagati, ci sarebbe l'utilizzo improprio dei soldi erogati dall'Enel come misura compensativa per la costruzione del rigassificatore, la cui realizzazione però è rimasta sulla carta, mentre i soldi dell'Enel, secondo la Procura, sarebbero serviti per fare quadrare i conti in maniera illegale.